Parti da una posizione di vantaggio essendo sindaco uscente, secondo te sarà una lotta facile o il centrodestra ti creerà problemi? Partire con vantaggio significa avere ben amministrato ed è questo che io mi auguro che venga percepito e compreso dai nostri elettori, se questo accadesse ciò mi renderebbe estremamente felice. Nelle liste che ti appoggiano c'è ancora una lista di giovani, vista l'esperienza passata non pensi che possa succedere altrettanto che poi a metà del percorso ti trovi senza il loro appoggio? Ma c'è una piccola differenza che a capitanare questa lista è un assessore, un assessore che ha ben lavorato e che è chiaramente in una situazione fiduciaria nei miei confronti, in quanto ha lavorato bene e ha rispettato anche le direttive che gli venivano proposte. L'altra volta quando venne fatta l'isola pedonale in Piazza Mercato ci furono un sacco di polemiche, mai pensato di allargare quest'isola pedonale? È inevitabile che si pensi a questo se vogliamo far crescere la nostra città. Più abbiamo aree pedonalizzate e percorsi ciclabili e mobilità dolce, chiaramente la città ci guadagna di immagine e soprattutto di vivibilità. Realizzare questo è sempre molto difficile perché abbiamo sempre molte forze contrarie che ritengono molto spesso, sbagliando, che questo sia un danno economico. Invece la pedonalizzazione è sempre un guadagno per il commerciante. Il borgo della cultura e l'allargamento di un isola pedonale dovrebbe voler dire anche un maggior potenziamento dell'attività culturale della città. Nel vostro programma c'è qualcosa sulla cultura? Abbiamo dimostrato concretamente di aver fatto cose quasi grandiose in relazione ai personaggi che hanno gravitato in Domodosso, alle mostre realizzate e alle attività che ha animato costantemente l'attività dell'assessore e dell'amministrazione. Quindi ovviamente continueremo sulla forza Liga e del percorso già fatto. Il centro-destra dice che non votate Catrini perché tanto rifarà la stessa giunta, quindi praticamente non faranno niente. Ma questo significa non tener conto che ci sono ben 64 candidati nelle mie liste, abbiamo dei risultati e soprattutto emergeranno anche facce nuove. Questo me lo auguro. E quindi se emergeranno facce nuove avremo anche assessori nuovi. C'è la visita del ministro del Rio, farà un salto anche allo scallo di Domodue, credo che sia il quinto o il sesto ministro che viene a visitare lo scallo di Domodue. Secondo te è la volta buona? Questo è un grande problema. Però oggi siamo di fronte a un evento particolare, un grande potenzamento del Gottardo e soprattutto nei trasporti navali abbiamo un flusso di container che sarà mostruoso. Per cui si affaccia l'ipotesi che il Domodue possa essere ancora interessante per Genova e per l'Europa. Ecco, Domodossola è una città che ha diversi immobili delle ferrovie dello Stato inutilizzate, diverse aree bloccate proprio dalle ferrovie. Su questo settore state lavorando per cercare di sfruttarle al meglio? Ci sono interessanti novità che ovviamente io sono solito non comunicare nel momento in cui ciò non si traduce in azioni di fatto. I contatti ci sono e noi ci auguriamo che con la prossima amministrazione, dovessi guiderla io, qualcosa di estremamente interessante venga fatto in quest'area. Ecco, la tua amministrazione ha dovuto fare i conti con una serie di costi eccessivi dovuti agli esproprii non ben regolarizzati. Mai pensato di dover fare rivalersi su amministratori o funzionari del passato che potrebbero aver commesso degli errori? Se l'errore comporta delle condanne effettive evidentemente sarà la Corte di Conti anche a pronunciarsi. Da parte nostra sappiamo che questa cosiddetta cattiva amministrazione risiede soprattutto nel fatto che c'erano molti rapporti fiduciari una volta che creavano questi grossi disguidi. Ecco, nel passato programma elettorale tuo c'era anche lo sviluppo del collegio Rosmini che è rimasto però purtroppo inattuato. Vorrei precisare che non abbiamo fatto accenno nel programma perché è oggetto di un progetto molto molto importante. Posso dire anche in questo caso che i contatti ci sono e sono molto importanti e ci auguriamo che qualcosa di estremamente interessante con la prossima amministrazione possa accadere. Tra le aree interessanti c'è anche l'ex Indel e l'ex Macello. Avete delle idee particolari? Ma queste aree ovviamente sono aree di proprietà privata. La ex Indel oggi è sdoganata dalla magistratura. Si tratta di vedere la proprietà come intende muoversi. Ecco, di recente un cittadino ti ha scritto dicendo che fate poco sull'evasione fiscale. È vero? Ma certamente si può fare molto, ma molto di più. Ma noi cozziamo contro un grande problema. Primo di tutto il fatto che non abbiamo personale. E sembra una litania questa, ma è una realtà tragica. Noi in cinque anni abbiamo avuto numerosi pensionamenti e nessuna sostituzione. Penso che qualsiasi ditta privata non funzionerebbe e qualsiasi impresa crollerebbe. Ecco, un altro nodo cruciale è la viabilità, soprattutto l'ingresso sud arrivando da Villa Dossola nella regione Nosere. Certamente, questo è un nodo vitale. Anche qui cozziamo contro il fatto che non possiamo attingere a mutui. Qualora lo potessimo fare, questo problema avrebbe sdoganato immediatamente. Ecco, se i cittadini chiedessero di mettere in vetrina il tuo patrimonio per una maggiore questione di trasparenza, tu lo faresti? Ma io non ho patrimonio, quindi non ho problemi di mettere a disposizione il mio patrimonio. Ecco, un'altra attività importante di questa città è il commercio. Certamente, noi viviamo sul commercio e dobbiamo incentivare il commercio e creare delle condizioni per cui i turisti abbiano il massimo di offerta da parte dei nostri negozianti e da parte della nostra città. Monica Corsini, Movimento 5 Stelle, siamo davanti all'ex macello, un progetto che non è mai decollato. Sì, e dal 2006, infatti, abbiamo spalancato le porte dell'area ex macello perché in fondo su quest'area si è raccontato qualunque cosa. Ci sono state due amministrazioni dal 2006, dieci anni, tutti parlano dello sviluppo dell'area ex macello, si sono stati fatti progetti, bandi, proposte, studi di fattibilità con costi a carico dei cittadini su un'area che abbiamo scoperto da piano regolatore che ha carico antropico, il che vuol dire che è un'area che ha uno sviluppo edificabile, residenziale e privato per 94 vani. Quando i cittadini ci ascoltano nei nostri incontri si sorprendono, si stupiscono e non ci credono. Dice, com'è possibile che le amministrazioni non abbiano mai sentito il bisogno di comunicare al cittadino che quest'area che è comunale ad oggi invece è destinata ad uso privato. Ecco, questo è quello che noi non faremo. Quindi il Movimento 5 Stelle, più che grandi progetti, entra nell'amministrazione per restituire intanto al cittadino le informazioni corrette rispetto al proprio territorio, allo sviluppo concreto che questo potrà avere, un bilancio che non consentiva in realtà nessuno sviluppo su quest'area, si è partecipati ad un bando per svilupparne un'altra, che conosciamo, quella della città dello sport, ma su questo è calato il silenzio. Un silenzio che secondo noi non è corretto nei confronti dei cittadini. Quindi cosa ci faremo noi? La prima cosa da fare è rivedere il piano regolatore, restituire quest'area ai cittadini, che è un'urgenza, perché se domani dovesse entrare un'amministrazione non sensibile, qua ci ritroveremo con un nuovo edificio come quello che ci troviamo di fronte. Ecco, una delle cose sulle quali devi appuntare a Domodossola si dice anche la cultura. Avete in programma qualcosa di particolare sulla cultura? Sì, noi abbiamo nel nostro programma elettorale, vogliamo restituire a Domodossola la dignità. Per farlo dobbiamo trovare la sua identità. Noi abbiamo un'identità storica molto importante e abbiamo un valore che è quello del sasso. In questa settimana abbiamo incontrato un potenziale futuro aspirante, assessore, che ci ha anche dato uno sguardo rispetto a un'idea che avevamo anche noi di come riuscire a promuovere il sasso locale. Il sasso inteso in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, quindi mostre interattive, mostre culturali, comunque lavorare sull'idea che il sasso possa diventare un filo conduttore che identifichi Domodossola dal punto di vista promozionale con un'idea di base forte, vera e che quindi si sviluppi poi da quello tutto un piano che vada ad invadere tutti gli altri settori, quindi turistici, settore commerciale, utilizzando come elemento fondamentale il sasso. Noi siamo un popolo che ha una storia enorme rispetto al sasso. Basta pensare ai borghi, le costruzioni in sasso. Ecco, tutto questo deve diventare un valore aggiunto che si trasformi poi in un progetto ad ampio respiro di tipo culturale. Abbiamo un borgo della cultura ristrutturato molto bello che però va riempito di contenuti, ma quei contenuti devono avere un carattere chiaro, riconoscibile, identificabile, nel quale anche lo stesso cittadino si riconosca. E noi vorremmo partire dal sasso. Ecco, a proposito del borgo della cultura, sareste favorevole ad un allargamento dell'isola pedonale? Io dico che l'isola pedonale ha portato tanta ricchezza a Domodossola. È sempre difficile per i cittadini e spesso anche per i commercianti abituarsi all'idea di abbandonare l'auto. È chiaro che se c'è un'amministrazione sensibile riesce ad ascoltare le esigenze dei cittadini e magari anche a promuovere iniziative volte a procedere lentamente fino a un'estensione e noi ci auguriamo che possa essere davvero anche molto forte l'estensione di una zona a traffico limitato e anche chiusura totale del traffico. Quindi penso per esempio a Via Rosmini che potrebbe essere sicuramente una via di sviluppo importante e come quella anche altre, ma non vanno comunque calate dall'altro, va comunque rivisto tutto il piano, la viabilità a Domodossola, le aree di parcheggio. Quindi è un percorso lungo che bisogna fare con il cittadino senza escluderlo. Ecco, voi di recente avete fatto una denuncia pubblica su delle spese eccessive che il Comune sosterebbe nel recupero crediti. Sì, le denunce sono una, è una diffida che abbiamo fatto, abbiamo chiesto al Comune di non pagare la esempli perché troviamo che ci sia qualche anomalia nel passaggio e che la cifra non è congrua e siccome si tratta di soldi dei contribuenti vorremmo maggiore chiarezza. La diffida al momento è partita con un atto legale da parte mia nei confronti dell'amministrazione, ma nella prossima settimana partirà una raccolta firme per cui la diffida sarà pubblica. Chiederemo proprio ai cittadini di chiedere all'amministrazione di verificare se la spesa sostenuta dall'amministrazione, che sono soldi quindi nostri, sono stati spesi in maniera corretta. Ultima domanda, perché votare Monica Corsini nel Movimento 5 Stelle a Domodossola? Perché non vedrete mai più progetti di questo tipo? La sensazione di Bernardino Gallo, il tuo movimento è in crescita dopo questi primi giorni di campagna elettorale? Ma credo di sì. E del resto questa nostra avventura nelle elezioni amministrative serve a dare una voce dalle istituzioni a questo movimento che subito dopo l'elezione ripartirà, credo, con maggiore lena e consistenza. C'è chi dice che sarebbe anche il caso in questa città di cominciare a pensare ad un allargamento dell'isola pedonale? Ma allargare l'isola pedonale è una cosa da valutare. Dal mio punto di vista occorre rivedere complessivamente il piano di traffico, eventualmente inserendo anche qualche corsa pubblica, ad esempio dalla Cappuccina fino alla stazione perché c'è un flusso del genere, rivedere radicalmente. Nell'ambito di questa radicalizzazione occorrerà vedere quanto è possibile allargare in termini di pedonalizzazione e come riorganizzare anche il mercato. Sono problemi che sono interconnessi. Qualsiasi progetto, però, come ho detto in altre circostanze, deve essere sperimentale. Comunque ci sono troppe rotonde, troppi sensi unici e c'è troppa circolazione che fa perdere tempo alla gente e che comunque inquina maggiormente per il traffico. Tu prima di essere pensionato hai lavorato per le ferrovie dello Stato. C'è la visita del ministro del Rio, credo che sia il quarto, il quinto, il sesto ministro che viene a visitare lo scalo di Domo 2. È la volta buona? Ma credo proprio di no perché sia a livello nazionale sia a livello piemontese e anche lombardo il Sempione è stato sempre trascurato a favore del Gottardo perché il Gottardo e i poteri forti della Svizzera hanno pesato. Si teca conto che noi siamo incuneati nella Svizzera, qualcuno l'ha definita anche nella porta dell'Europa, il percorso ferroviario, quindi avremo noi interessi per i nori, è di gran lungo il maggiore e nello stesso tempo è quello più breve dai porti della Liguria verso il centro dell'Europa. È stato sempre trascurato, quindi non credo, se passerelle elettorali calate dall'alto che si abbinano con le iniziative elettorali da parte di questa giunta fanno incavolare i cittadini. Tutta una serie di lavori che si stanno facendo negli ultimi sei mesi che per cinque anni non sono stati fatti, il verde, l'asfaltatura e via discorrendo. Bernardino Gallo, sindaco, dialogherebbe con le ferrovie dello Stato per avere parti di quegli immobili di quelle aree che adesso le ferrovie ne usano più, ma sono anche in centro città, quindi in una zona strategica? Certamente c'è da dialogare, ma venendo da quella realtà, io so che hanno fatto una serie di spezzatini, cioè spezzatini significa settori che spesso non dialogano fra di loro e chi è addetto all'affitto, alla vendita, pensa che le rendite di Domadosso non siano uguali a quelle di Milano, per cui sarà una trattativa molto complessa e difficile. Questa amministrazione ha portato avanti il disegno di una unione con Villadossolo, adesso si riparla di fusioni tra comuni, secondo te è una strada da percorrere? È una strada da percorrere, tant'è che nei fatti e anche nelle linee programmatiche io ho proposto, per la verità anche qualcun altro l'aveva poi dopo portato avanti, la fusione con Bognanco, che è quella molto più naturale. Certamente le fusioni devono concretizzarsi, ma occorrerà fare i conti con i campanili, con gli egoismi, con i getti di frontaliere che sono in ballo e con le dighe che sono nell'alta Varformazza. Certamente da parte di molti vie si avverte l'esigenza di una unità dell'ossola e io, nonostante lo spezzatino di quattro unioni, ho suggerito che debbano mettere nel loro statuto un movimento di coordinamento tra presidenti, tra giunte e via discorrendo, perché se non siamo uniti sia all'interno della provincia sia nei confronto della regione non andiamo da nessuna parte. Torniamo sulla viabilità, c'è un nodo abbastanza importante, quello delle nosere, che è spesso intasato all'ora della partenza o del rientro da Domodossola. Sì, in effetti è quello più, è anche pericoloso, si possono lavorare su due piani, uno migliorando quello che c'è, ad esempio dirottando senza farli arrivare sulla strada principale il traffico che esce fuori dall'autostrada verso il Carrefour, è già quello alleggerirebbe, anche perché chi di noi gira sa che non c'è nemmeno uno specchio e intanto c'è un'attività di un gommista, poi non c'entra niente, da un momento all'altro succederà qualche notevole incidente. Successivamente si potrebbe e si dovrebbe studiare una possibilità di fare un senso unico passando nell'area del Baduleri, è l'unica strada. Sono contrario invece a passare dalla parte opposta. L'ultima domanda, perché uno di Domodossola dovrebbe votare Bernardino Gallo o una delle sue liste? Ma per la semplice ragione che noi siamo credibili. Lucio Pizzi, candidato a sindaco a Domodossola, una lista civica più alcune liste del centrodestra, scusa se insisto, ma con questo centrodestra tu cosa ci azzecchi? Perché ultimamente non è che fossi molto in sintonia, diciamoci la verità. La storia del mio percorso politico-amministrativo, credo che possa dire, parla chiaramente. Anche quando ero un iscritto di Forza Italia ho sempre ragionato con la mia testa e ho sempre guardato i miei cittadini. Non bisogna prendere ordini, ma bisogna guardare gli interessi dei cittadini che ti danno fiducia. Questo è il mio spirito, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Ma non pensi che qualcuno che tu magari nel centrodestra hai un po' attaccato in passato possa giocarti contro in questo momento? Ma io non ho mai attaccato nessuno, ho sempre solo difeso il mio territorio e l'interesse dei miei cittadini. È evidente che forse guardando le liste qualche mal di pancia è rimasto, ma per me non è un problema. L'importante, ripeto, è essere a posto con la propria coscienza e guardare ai cittadini che ti danno la fiducia quando vanno in cabina elettorale. Vediamo Domodossola, si parla tanto del borgo della cultura, di una città accogliente, di cultura. La tua lista ha dei programmi? Ma certamente nel nostro programma si trovano i passaggi necessari anche relativamente a questo argomento. Farei però una considerazione più generale. Non ho sentito parlare molto di cultura durante questa campagna elettorale. Ho fatto una riflessione e devo dire che non lo vedo come un aspetto negativo. Non è certamente che io o i miei competitor non ci occupiamo di cultura, non vogliamo occuparci di cultura. Credo che possa essere visto in questa fase come un segnale di maturità. Cioè non c'è una cultura di destra o di sinistra, ma c'è una voglia di creare movimento, entusiasmo, interesse rispetto ai nostri beni culturali che certamente vanno messi in rete. Guardando quindi non solo a Domodossola, ma a tutta la ossola. Quindi direi che il fatto che sia stato tenuto un profilo piuttosto basso e che non ci siano state esasperazioni su una cultura di destra e di sinistra può essere visto come un segnale di maturità. Ecco, legata alla cultura c'è anche la vivibilità di Domodossola. Non avete mai pensato, visto il successo di Piazza Mercato, ad allargare l'isola pedonale? Ma in questa fase non vedo nell'immediato possibilità o valutazioni di allargamento dell'isola pedonale. Vedo una riqualificazione e un proseguimento del borgo della cultura verso via Rosmini e verso il Calvario, ma non si può pensare di pedonalizzare tutta Domodossola. Domodossola non è che ha un aro in una superficie come Milano o Torino. E comunque sì, sono dei passaggi che vanno fatti con grande concertazione, ascoltando i cittadini, ascoltando i commercianti e valutando il fatto che non puoi togliere dei polmoni di parcheggio e semplicemente pedonalizzare, ma dare poi la possibilità alle persone che arrivano di entrare facilmente nel borgo della cultura. Nell'altra intervista hai ribadito il ruolo principe di Domodossola come capoluogo dell'Ossola. In questi giorni verrà il ministro dei trasporti e delle infrastrutture del Rio, sarà il quarto o quinto ministro che visita lo Scalo. Secondo te è una visita positiva o alla fine sarà il solito giro turistico? Ma io ho l'impressione che sia la solita passerella politica pre-elettorale, di campagna elettorale. Sono tanti anni che ne sentiamo parlare, ma l'impressione è che sia un po' la solitaria fritta. Forse guarderei un attimino adesso con un po' più di interesse e di concretezza immediata alla riqualificazione di Domo 1 e all'accesso di Domo 1. Ecco, di fatti, la domanda che volevo farti perché restiamo in campo di ferrovie. Domodossola ha un sacco di immobili e di spazi occupati dalle ferrovie dello Stato. Iniziare un dialogo con le ferrovie per recuperarli? Certamente è una delle prime azioni che la nuova amministrazione dovrà fare e in quel tavolo, in quell'occasione, si potrà parlare sia degli immobili da recuperare per immaginare anche uno sviluppo urbanistico importante e sia della riqualificazione di Domo 1. Ecco, qualche tuo avversario, candidato sindaco, sta puntando anche sulla fusione di Domo d'Ossolo con qualche altro comune. Pizzi, che idea ha? Ma intanto facciamo capire bene ai cittadini che il punto di partenza delle fusioni nei piccoli comuni è un dato obbligatorio già di per sé per legge perché i piccoli comuni non riescono più a gestire i servizi perché hanno dei bilanci asfittici, non ce la fanno, la legge li obbliga a fondersi, non è il caso di Domo d'Ossola. Quindi per questo forse non è stato il mio primo dato di preoccupazione. Poi non mi piace parlare di sogni perché abbiamo visto che cosa è successo con l'amministrazione Catrini. Tre comuni, un asse di comuni, Crevo la Dossola, Domo d'Ossola e Villa d'Ossola, dello stesso colore politico. Tutti i targati PD hanno cominciato a parlare di un grande libro dei sogni come al solito perché è una loro buona abitudine. Sembrava che i comuni dovessero fondersi il giorno dopo, peccato che poi tutto è finito e niente. Io non sono per le parole, sono per i fatti. Quindi cerchiamo di amministrare bene Domo d'Ossola e poi sicuramente si possono fare delle valutazioni. Però ci vogliono dei passaggi di maturità politica che riescono a guardare anche al di là dell'appartenenza politica per creare dei percorsi seri e non solo tanto per riempirsi la bocca. Un'altra cosa è la viabilità. L'ingresso sud di Domo d'Ossola è spesso intasato, parlo della zona delle Nosere. Idee su come svilupparlo? Le idee sono chiare e scritte nero su bianco nel programma. Ci vuole una nuova rotonda all'uscita della Stadale 33 e ci vuole assolutamente anche una rivisitazione della rotonda in regione Nosere che contribuisce alla congestione del traffico. Credo che anche una nuova cartellonistica potrebbe agevolare. Un'ultima domanda. Se i cittadini chiedessero ai candidati sindaci di rendere pubblico il loro patrimonio mobiliare e mobiliare per questioni di trasparenza, lo faresti? Io credo che ai cittadini interessi capire se l'amministratore ha un cambio di peso nel suo patrimonio dalla partenza del suo mandato alla fine del suo mandato. Quindi che differenze possono esserci dall'inizio e dalla fine. Perché no? Non credo che il mio modesto patrimonio possa interessare molto ai cittadini domesi, ma su questo ho un'assoluta serenità.